Il 4 marzo si vota per scegliere il presidente della Regione Lazio. Ricorda, le urne saranno aperte solo domenica dalle 7 alle 23. Il Lazio ha ancora bisogno di una persona onesta, competente e che lotta per migliorare la vita dei cittadini. Se anche tu scegli la forza concreta del fare, vota Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio. Per andare avanti, tutti.